Allora, segnatevi queste date. 31 marzo, 17 aprile, il luogo, Teatro Manzoni di Milano, noi due. Noi due in una commedia che si titola Quei Due, cioè il sottoscala, che è una tenera storia omosessuale. Un vizietto edulcorato, diciamo. Carino? Mi guardi in un modo... No, carino dico... Mi stai guardando in un modo che già mi preoccupa. Dunque, comunque, per essere al pari con Tullio, anche io userò gli occhiali. Questo spettacolo... Scusati, ho tolto il respiro, la parola. Questo spettacolo? No, dillo, cosa volevi dire? No, dillo agli amici che verranno a vederci al Manzoni. Volevo dire a tutti che sono felice, perché finalmente Tullio Solenghi mi farà da spalla. No, no, non ci siamo capiti. Come? No, sei tu che fai da spalla a me. No, però io. No, i patti erano questi. No. Non avrei firmato. No, no. No, ma il regista Roberto Valerio lo sa. Spalla lui. Incominciamo bene. Io non ho mai fatto la spalla. Incominciamo bene. Massimo, posso fare il ginocchio. Venite. Venite numerosi. Dal 31 marzo, 17 aprile, 2016, Teatro Manzoni di Milano. Per vedere se stiamo ancora assieme. Ma ci sta un po' senza. Se sopravviviamo, ci mettiamo insieme e faremo anche un figlio. Vi aspettiamo.